ragazzi questo nuovo video sono rosa che vi stiamo andando sul canale perchè come potete vedere ho 10.000 bling e voglio andare a spenderli. Allora io inizio tranquillamente con una skin di bull perchè bull è da tantissimo che non lo push, è da tantissimo che non lo uso, è da maestria ok 35 di maestria o potrebbe essere ci fatto qualche game e quindi lui è l'unica skin decente di bull prima lo andiamo a provare ok senza che magari mi esplodi il computer, il tablet, allora vediamo come si usa questo bull vorrei capire che cosa lancia sono delle zampe di gatto vediamo la ulti, non ricordo lo spacca i muri si, ha davanti dei baffi molto carina come skin quindi allora carina sì però forse è un po troppo 5000 allora vediamo cos'è che hanno le skin allora voi se faccio vedere cosa faccio cos'è che ah qua forse allora qua ok ah le reazioni ah l'icona giocatore su buono 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 subito mettendo quella mente l'icona giocatore eh ok eccola qua molto bella mica vale con l'icona giocatore l'icona giocatore si c'è scritto ah con l'icona giocatore verranno aggiunti ok allora andiamo subito a mettere l'emoji subito a mettere l'emoji non perdiamo altro tempo a mettere l'emoji e andiamo a prendere lo start up vabbè mettere anche la skin mi sta racconto tantissimo il gioco sarà perché non lo apro sull'ipad da veramente veramente tanto tempo ok graffitti non penso ci siano della skin no infatti ci sono la mano della skin eh niente ce l'ho le 9 si portiamo uno a 10 andate a mettere pronto non ho l'aster power no non ho i gear i gear quindi penso di essere una semplice solo si forse andiamo a prendere un po' per bull ma stanno un pochettino camper che si può fare tutta ok ragazzi purtroppo ho dovuto cambiare il dispositivo perché mi laggevo tantissimo sul tablet e non capisco più però fa niente noi sono lanciatori qui a sinistra non ho visto lanciatori quindi la cosa positiva una perla va bene quindi niente faccio un altro game per riportarlo giusto a 500 e per andarci a prendere lo start up è buono più sei l'aveva riportato a 500 niente star drop brutto non so cosa dire e adesso andiamo a a prendere una skin da 2700 a 2750 qualche missione magari buzz e andiamo a buzz cosa c'è che dobbiamo vincere due match con buzz eccolo qua a prendere la skin di crei 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 andiamo a cio non ci fare neanche al 15 eccolo qua 100 preciso no buono che l'ho al sete va bene al sette e metto le mogli di la skin per fare di win quindi a logo cise che faccio un bug normalmente e ci vediamo alla fine ok niente grazie mortis grazie mortis ok grazie vabbè faccio prefare questa visione sinceramente va bene però grazie mesi veramente grazie perché eravamo in sei lì e mi percato soltanto me grazie mesi oh la lobby bot se non faccio la top in questa p10 dovevo aver fatto una missione andiamo a farne quanti missioni aveva con grom anzi mi ritengo per la prossima volta la prossima volta andiamo a fare un pochettino di missioni avremoci questo star drop sempre raro andiamo con l'ultima skin mancano 2007 non ce la faccio ma non me ne frega niente perché c'ho le gemme quindi eeeh mmmm si c'ho le gemme anzi no prendiamoci le da semplicemente da mille ce ne prendiamo tutto da mille allora semplicemente eeeh mmmm qualche skin bella mico non l'ho ah pensiamo mico allora mico me la prendo subito perché non ho skin di mico ok eeeh eeeh mmmm per poco sblocco cordelius quindi mi ritengo e vado a cordelius ok perché è l'unico brawler che non ho la skin cioè normalmente ce ne sono tipo allora chitte l'ho ero l'eroi l'ho edgar l'ho leon l'ho sorgi l'ho corvo l'ho ms l'ho un po' bruttina però vabbè barry l'ho colt l'ho ero il primo l'ho rico l'ho carlo l'ho vabbè li ho di tutti tranne il suo ok lei eeeh bibi l'ho jessi l'ho gelindo si che vuole il pass 8 bit non ce l'ho spy che ce l'ho vabbè mamma pam mi manca eeeh mico l'abbiamo appena presa bea mi pare che mi manca si jinn ce l'ho eeeh mister p mi manca taralo senti non l'ho ah non l'ho scherzo l'ho vabbè 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 mi manca io gli sono tolto la skin si piper l'ho buster l'ho byron 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 mi manca l'ho l'ho mortis vabbè mortis non mi piace le skin vabbè comunque ci vediamo nel prossimo video dove sarà molto ovviamente l'unboxing diciamo del megafig ciao ragazzi mi raccomando iscrivetevi lasciate like attivate la campanellina e iscrivetevi sui social all'instagram scusamelo rosa anche su tiktok scusamelo rosa ciao ragazzi grazie a tutti ciao 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 ciao